ciao a tutti ragazzi benvenuti qui nel canale di dj per 98 oggi facciamo una cosa che non aveva neanche programmato diciamo un torneo su jacks poker di poker king allora dico subito che è la mia prima una non è da molto di gioco qualche volta gioco sul mio windows phone mi è stato consiglio mi è stato detto da alcuni guarda c'è anche per pc provano vado proviamo per tutti qui abbiamo il velo che abbiamo anche disponibile la versione su vedere chi sta con cellulare tipo l'iphone allora vediamo un po 93 con qualche problemino 93 non è un gran che non sono brava a poker dico però qualche volta quando devo aspettare per un upload di video in questo caso che posso fare una partita perché solamente la connessione non è dei migliori allora 70 no 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 cioè no no perché alla fine non credo fare tanto con una scala di culo ma proprio uno culo ci vuole davvero per questo allora scusate ragazzi se non ho fatto il webcam ma purtroppo non ho abbastanza memoria cioè sapete che il webcam ha ridotto il telefono purtroppo non ho abbastanza memoria quindi non posso poi la webcam nel pc fa schifo quindi non conviene invece ho fatto coppia scusate ragazzi non vedete il cursore del mouse ma ho dovuto un po sistemare questo va beh allora vediamo la coppia di tre vabbè c'è il cinque c'è il cinque uno c'è il cinque sicuramente poi no c'è solo il tre meno male fatto bene allora hanno lasciato tutti e vince infiniti il più povere guest 263 92 peggio di prima peggio di prima 9 2 guardiamo un po se puntano più tanto non lo prendo in attesa di migua volta guarda io vorrei anche voltare ma vediamo un po cosa esce perché c'è quel 9 che probabilmente non potrebbe salutarla cala è impossibile no 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 ma sempre così capitano hold on hold on hold on no che ho lento tu sei fuori vediamo un po come va a finire ma oddio meno male che ho fatto bene ma non già siamo in tre ragazzi da cinque siamo passati a tre incredibile vediamo come va a finire quanto faccio sono sopravvissuto e questo già è tanto allora 42 dai chiamiamo vediamo cosa fanno infinite sicuramente incredibile ma lo c'è pure io che non so niente cioè non mi conviene puntare qualcosa che non ho se non so a te stavo ragionando ma loro non hanno niente... vince la carta alta... no non mi dico che punti dai... no togliti... attenzione... probabilmente è andato a FK... vediamo... a cercare... e vince... vince lui... nooo... cosa che c***o... carta alta... c'è carta più alta... ce l'aveva lui ovviamente... e quando mai ho fatto qualcosa... vabbè... ma perché? ma sempre 9-3 mi esce... ma io no... mamma no... ma che carte sfigate... tre volte di fila... 9-3... 9-2 e 9-3... e che c***o però dai... un po' di... meno male che ho fondato... guarda là... sì... 70... c'ha qualcosa... quello c'ha qua... c'ha il 10... c'ha il 10... 10... 2... oh... no... 70 c'è avrà qualcosa... vediamo un po'... 2-2... o c'ha 3... o c'ha 10... mi sa che c'ha 10... o c'ha 3... no... vediamo... chiama... chiama... questo chiama... questo chiama... K... c'è il K di mezzo... questo mi sa che è... la verde... la verde... perché... è fatti... doppia coppia... 10... 10... 10... coppia di 10... attenzione... non sono io il più povero... incredibile... dovevi finire con 2550... cavolo... e dai... non possono uscire le carte così... ma che cosa... allora cerchiamo... no... incredibile... c'è una coppia di 3... dai... un'altra coppia... doppia coppia? oia... aia... qualcuno c'ha 3... qualcuno c'ha un 3... mi viene in mente che... no... ma c'è... un K contro un 3... ci puoi mettere... notti... non ci credo... non ci posso credere... la pia gabbia... mi deprimo... nella mia mente interiore... no... vince... eh... incredibile... va a... 605... ma... bene... sono sempre i 3... 4... 10... forse... va meglio... forse... 3... 2... anche se ho fatto... no... vince... ma... diciamo... beh... eh... allora... eh... se mettiamo fuori... se metto fuori guest... no... chiamo... 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 ma cosa... dai... esci qualcosa di... non c'è niente... non c'è niente... no... dai... ma... chiamo... ma... non c'è niente... dai... ceccano tutti... e lui punta... giustamente... per mandarlo in fumo tutto... ma... ecco... era ovvio... non c'è niente... non c'è niente... 820... 810... 2390... oh... siamo rimasti sempre i... i soliti 3... eh... dai... ma cosa... ma sempre le stesse carte... ma... cosa... ma... cosa... 9... 9... 9... 9... 2... 9... 3... 2... 3... ma... no... ma non è possibile... ma guarda che cosa... ma mi escono le stesse carte... ma... oh... beh... ti stanno abbattendo qualcosa... se io penso... io c'è... no... ma... cosa... ma... cosa... ma... dai... si... si... eh... dai... ma... questa è sfiga... c'è... il 9... è l'ultimo... oh... c'è... vuole... vuole... la... vuole vincere... la... vuole vincere... eh... cosa... oh... 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 forse... forse ce la famo... e che cazzo... vabbò... no... si... ma dai... una carta alta c'è... punta... ripunta... ripunta... e doiii... non ho sbagliato... perchè... ho sbagliato... maledetto ma... ho usato la sensibilità di 3500 di... di... ti... ti... a... di... a... cinque... a... e... all in... oh... attenzione... nooo... nooo... oh no... aveva fatto tipo una doppia co... a... secondo... sono arrivato secondo... io solo sono arrivato secondo... accettando che non sono arrivato quarto... ragazzi... eh... se volete... che ne so... volete anche... volete sfidarvi a Poker King... accetto... basta che mi scrivete via messaggio privato... vi dite... guarda... io so più forte di te... io ti voglio sfidare... e allora ti sfida... ma accetto la sfida... vediamo un po' come andrà... questo primo episodio... se questo sarà una serie fischi... e qui... vedremo un po' al prossimo torneo... di fare qualcosa di meglio... eh... questo è tutto... ciao... ciao...